Per dare un tocco più innovativo al negozio, che metto spezzo una lancia a favore sotto Natale, è servito tantissimo anche per il discorso a festa della mamma, abbiamo degli schermi digitali a metà del negozio dove i clienti nell'attesa possano comunque scegliere e visionare tutti i prodotti che abbiamo.